Vincenzo Pirrotta ha fatto delle proposte. Bruce Lee mi pare. La prima volta su un palco recitavo in una filodrammatica del mio paese e lì è nata la scintilla e recitavo un giovane Fabrizio nella locandiera di Goldoni. Il primo ruolo cinematografico è stato con John Turturro. Il film si chiama Prove per una tragedia siciliana. L'anno scorso c'era la tensione della partecipazione del film. Quest'anno è un po' diverso. Mi godo questa splendida location, ma anche la straordinaria organizzazione di OFF. Allora, quando me l'hanno proposto, con grande gioia e passione, ho accettato. Però certamente avere visto 12 cortometraggi di grande valore non è stato facile scegliere. Mi sono dato dei parametri e li ho condivise con le altre due giurate. Quando ci siamo visti non abbiamo avuto dubbi sul cortometraggio vincitore. Passo più tempo a lavorare per il cinema che a lavorare per il teatro. E quindi il cinema mi sta un po' rubando al teatro. Io ho scritto il mio epitaffio. Ha fatto delle proposte. Credo che aver fatto delle proposte, cercare di dire questo è il mio pensiero, questa è una cosa bella che fa onore a tutti.